Mirko Sardini chiede Intanto, ciao Mirko, grazie per la domanda Perché preferisci Android a Apple? Vogliamo cominciare subito col botto eh Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tech Addicted Oggi, ehm, oggi Che facciamo oggi? Beh, oggi rispondiamo ad alcune domande che mi sono state poste Sulle storie di Instagram Ho messo come storia, fatemi alcune domande E io risponderò in un video Eccoci qui Ok, partiamo subito con la prima domanda Ovvero la domanda più importante La domanda che ha dato vita a questo video Senza la quale, appunto, questo video non sarebbe mai stato realizzato Alessio Avalsicai Avalsicai Correggimi se ho pronunciato male il tuo cognome Sono nuovo sul tuo canale ma mi piacciono i tuoi contenuti Per questo vorrei sapere alcune cose sulla tua vita Spero di non essere troppo invasivo Come ti chiami? Allora, il mio nome è Elliot Cognome Okbewi Poi c'è Gabriel e altri nomi Adcazium Insomma, che mi hanno dato i miei nonni Non entrerò nei dettagli, sono troppo lunghi Anni 19 Scuola Frequento il liceo artistico Pierluigi Nervi di Ravenna Frequento il corso di grafica Di dove sei? Allora, molto spesso confondo questa domanda con da dove vieni Di dove sei? Io sono nigeriano, ok? Vivo a Ravenna Se volevi sapere di dove sono, cioè da dove vengo o vengo dalla Nigeria Dove vivo, vivo a Ravenna Vabbè, sono scemo, ok? Lasciamo perdere Xscan mi domanda HarmonyOS sarà il nuovo sistema operativo di Huawei? E se sì, sostituirai Emotion UI? No Allora, per chi non sapesse che cosa sia HarmonyOS HarmonyOS è il sistema operativo prodotto da Huawei stesso E non è fatto per sostituire del tutto, quindi radicalmente, il sistema operativo stock Per stock intendo Android Quindi finché i due amiconi, ovvero Huawei e Google, resteranno appunto amici No, non succederà assolutamente niente Luca Terry mi domanda Ciao Luca Che macchina fotografica usi e quale consigli? Allora, io attualmente sto registrando con la Panasonic Lumix G7 E si vede da Dio È una buonissima macchina Peccato per il suo sensore che fa schifo al buio Nonostante ciò è una gran bella macchina La definizione è strabiliante Sto registrando un 4K adesso perché ne ho la possibilità Ho acquistato recentemente un 128GB di SD Quindi tanta roba O scegli una macchina buona O scegli una macchina solo per le foto Fine Cioè Allora, le macchine buone Dai 500€ in su Almeno li devi spendere 500€ in su Per questo ti consiglio magari, non so Una GX80 Una Lumix GX80 Che è la sorella minore della GH4 Solo che la batteria, non so, è il presente quando compri un milkshake Ecco Ci infili la cannuccia e proprio Quella è la batteria Allora, quella macchina è buona sia per fare le foto che i video I video li gira anche in 4K È una macchina compatta Leggera Tascabile Puoi portare dove vuoi Anche senza portarti un bagaglio dietro Dove mettere la macchina fotografica Luca Pozzi Intel o AMD? Personalmente nel complesso Cosa preferisci e perché? Ehm Non ho preferenze Per quanto riguarda i processori adesso AMD sta recuperando tanto terreno Anzi no, mi sa che l'ha già superato Intel per qualche poco Guarda, se ne avessi la possibilità e le risorse monetarie Passerei benissimo anche a AMD Perché per quanto riguarda i processori Sinceramente io non voglio nessun compromesso Voglio un processore che mi dia tanto A un costo accessibile Quindi grazie di essere venuto al mondo Ryzen Luca Terry di nuovo Cuffie bluetooth per il computer Sono un ottimo acquisto? Vanno prese stile airpods o classiche? Allora Forse per stile airpods intendi quelli bluetooth Appunto Ehm No Cioè nel senso non è necessario prendere delle cuffie bluetooth Sei più libero dai cavi però Insomma Allora io ti consiglio di prendere le cuffie normali Se vuoi andare sul sicuro Che poi ne trovi di ibride Sia bluetooth che col cavo Che poi se vuoi prendere le stile airpods Va bene per il telefono Però per il computer Insomma D2S 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 Ne vale la pena di prendere una scheda video dotata di RTX Ora o meglio aspettare Allora ora come ora volendo ti potresti anche prendere la 2060 RTX Oppure se vuoi andare sul sicuro vai direttamente di RTX Super 2080 o 2070 Tanto se sei no budget ovviamente Mentre se vuoi spendere un pochino di meno Ti consiglio una GTX stavolta non RTX Una GTX 16 e 60 Tra poco mi sa che cambio anche la mia Perché ha fatto i suoi anni Già da tre anni che ce l'ho Quindi Poi non è neanche una scheda video di quelle top È una 1060 da 3 giga E sì mi vergogno di questo Allora By Brian chiede Ciao Brian Domanda scontata Come è nata la tua passione E come c***o paghi il tutto Allora Non ho capito se intendi roba tech Computer eccetera Oppure la fotografia Allora La passione per il mondo della tecnologia è nata Grazie al fatto che Appunto ho conosciuto questo Questo mio amico Che aveva un computer Che se non sbaglio Ha un i7 Che poi ha scoperto anche lui recentemente Di avere un i7 6000 e qualcosa X Non K X Non so come ha fatto a dimenticarsene Però Vabbè Questo mio amico mi ha introdotto nel mondo Della telefonia E Del computer Finalmente una domanda inerente Al mondo della fotografia Allora Witek chiede Ciao Witek Dopo Arrivo Stile fotografico preferito E lenti utilizzati Allora Il mio stile fotografico preferito È il ritratto Esattamente Quindi Mi piace ritrarre persone Molto spesso in delle aree Piene di Verde Quindi andare in post produzione A Uccidere i verdi Cioè io le foto le faccio apposta In questi luoghi Pieni di verde Per poi andare A toglierli Quei verdi Cioè rendetevene conto Dovete sapere che io ho un problema con il verde naturale Io odio Il verde Poi vabbè sta di fatto che le faccio con I 50 mm Oppure la 25 mm Della Lumix Che però In scala PSC È un 50 mm Quindi va moltiplicato per 2 Sì magari fosse un 25 mm Se è una cosa Solito fattore di crop Cari ragazzuoli È giunto il momento di fare Un piccolo shout out A Witek Ovvero il gruppo Tech Di cui faccio parte Da Un mese Insomma È un gruppo che ci tiene Veramente tanto A creare Una community Tech Unita Insieme porteremo un sacco di progetti Interessanti E quindi Che ci fate ancora qui Andate A far visita a Witek Su E finalmente Arriviamo alla domanda fatidica Mirko Sardini Mi chiede Perché preferisci Android A Apple Mmm Non saprei Forse questa domanda Necessita di un video A parte Sì Penso proprio che farò così Sto scherzando Sto scherzando Resto qui Allora Perché preferisco Android A iOS Perché iOS è troppo facile Non ce la faccio Perché è troppo facile E questa è la risposta Non riesco ad usarlo Non ho nulla contro iOS Ok Anzi Voglio dire Apple Si è creato Un ecosistema Proprio impenetrabile Che nessuno può Scalfire E questo è un bene Questo è assolutamente un bene Però Sul serio Non sto scherzando Sul fatto che iOS È troppo difficile Da usare Perché appunto È troppo facile Lo so È un paradosso Però ci sono delle funzioni Su Android Che mi riescono Così E delle funzioni Sulla controparte iOS Che Non Non trovo Sono molto più legato ad Android E poi Android È modulare Cioè Lo puoi Customizzare Quanto ti pare Va bene Non serve a niente Customizzare Però Dai Per un fattore estetico Ok Che le applicazioni Sfruttano Appieno Il sistema Ma sinceramente Di quello Non mi interessa Ma Perché Cioè Non è Questione di abitudini Ma è Questione di Usabilità Ok Va bene Instagram Sfrutta Tutti gli SDK Di IOS E quindi Funziona meglio Ma sinceramente Non mi interessa Non è che vivo Con Instagram Cioè Voglio dire Edunque Se c'è qualche utente Apple Là fuori Che mi sta guardando E che Avrebbe voglia Di commentare Sotto al video Come fa Ad usare IOS Ti prego Fallo Ok Così magari Lo apprezzo Anch'io Grazie Ricordatevi Questo è il primo video Del canale In 4K Grazie ancora Delle domande E ovviamente Ci saranno Altri video Del genere Farò un sondaggino Sulle storie Di Instagram E Vedremo Chi mi risponderà Di solito Non mi risponde mai Nessuno Però Questa volta Ho avuto una botta Di E Niente Noi ci rivediamo A un prossimo video A un prossimo video